Taurus del Ronco che sposta a centropesta anticipato proprio da Brilliant BKS, chilometro ed 1.15.8, poco meno di 32 gli ultimi 4, passa nuovamente Offezze Clà nei confronti di Brilliant BKS e Taurus del Ronco. In bocca della curva conclusiva la frazione 14.2 con Brilliant BKS e Taurus del Ronco che passano su Offezze Clà. Quando si va a 2.50 la conclusione Brilliant in vantaggio, Taurus insiste, sopravanza l'avversario e tende a passare Taurus del Ronco che supera a cento alla conclusione Brilliant BKS. Del tratto finale vince Taurus del Ronco, ne confronto 6, la media al chilometro emerge la qualità.